Ciao, ho in mano queste bacchette perché oggi sono una batterista speciale, una heartbeater. Sono lo strumento con cui vorrei accompagnare il ritmo più potente e forte che ci sia. Il ritmo del cuore di un bambino cardiopatico, che potrà tornare a battere più forte, grazie all'aiuto del progetto Cuore di Bimbi, ma soprattutto grazie al nostro aiuto. Dico nostro, perché naturalmente da sola non ce la posso fare. Ho bisogno dell'aiuto di tutti. Cuore di Bimbi è un progetto cui tengo particolarmente, è un progetto speciale per me. L'ho visto nascere nel 2005, lo stesso anno in cui ho incontrato la Fondazione Mission Bambini. È un progetto cui tengo perché dona speranza e speranza è una parola che mi piace tantissimo. Una parola che suona bene ogni giorno dell'anno, certamente, ma sotto Natale soprattutto. In questo caso ancora di più, perché si tratta di donare speranza ai più piccoli. Vi va di unirvi a me per questa piccola ma grande iniziativa? Farlo è molto più semplice che imparare a suonare la batteria, ve lo assicuro. Grazie di cuore! Grazie a tutti!